pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci propone l'inizio del discorso con il quale gesù spiega il segno della moltiplicazione dei pani tra i tanti spunti ci aiuta a porci due domande importanti decisive per la nostra vita 1 perché cerco il signore 2 perché cosa mi do tanto da fare per ciò che passa o per ciò che veramente vale vediamo un po dopo la moltiplicazione dei pani gesù con i suoi discepoli si sposta e la gente lo segue trovatolo quasi in tono di rimprovero gli dice maestro quando è che sei venuto qui come a dire ora che abbiamo trovato il distributore seriale di benessere il divin fornaio che sforna pane a volontà e risolve i problemi con uno schiocco di dita e non puoi andartene senza dircelo ti vogliamo tutto per noi solo per noi e gesù mette in luce il problema voi mi cercate non perché avete visto un segno ma perché avete mangiato e vi siete saziati questo ci dice che non basta cercare gesù il punto è perché lo cerco vedete tante volte iniziamo a cercare il signore o intensifichiamo la sua ricerca quando le cose vanno male quando ci troviamo a soffrire la fame cioè a sperimentare il vuoto quando la salute vi è meno quando affrontiamo un problema serio noi a volte ce ne facciamo un senso di colpa ma in realtà meno male che almeno iniziamo a cercarlo in quei momenti difficili il paradosso non è scoprire che abbiamo bisogno di dio il paradosso è pensare che a volte non abbiamo bisogno di lui è altresì vero che noi cerchiamo il signore per i nostri bisogni quotidiani ed è una cosa normale giusta anche nel padre nostro diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano racchiudendo in questa espressione il necessario per vivere a livello materiale spirituale il punto però è ma cerco il signore soltanto per le cose quotidiane e gesù continuando dice datevi da fare non per il cibo che non dura ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà gesù è come se ci dicesse mi state cercando per troppo poco io voglio darvi molto di più voglio darvi un pane che dura per la vita eterna che vi sazia veramente quell'amore potente capace di pacificare la vita quella vita capace di portarti oltre te stesso e farti passare il valico della morte quella pace profonda capace di aiutarti attraversare le cose più serie della tua vita vedete miei cari noi tante volte chiediamo le cose quotidiane giustamente no chiediamo ad esempio il dono della salute ma gesù vuol darci molto di più vuol darci se stesso e con lui la grazia di attraversare anche la malattia e affrontare anche con fiducia l'ora della morte noi chiediamo che tutto vada bene lui vuol darci molto di più la sua grazia capace di sostenerci nelle difficoltà noi chiediamo che tutte le persone siano perfette lui vuol darci molto di più quell'amore potente capace di amare gli altri per come sono e aiutarli a diventare persone migliori ecco miei cari gesù vuol darci questo di più se davvero lo capissimo quanto cambierebbe anche la nostra evangelizzazione come ha detto bene don fabio rosini noi abbiamo educato una generazione di cristiani con un metodo fondamentalmente scolastico fatto di valori enorme spesso dal retrogusto acidulo cogliendo come frutto una fuga di massa dei giovani dalle chiese anziché aiutarli a scoprire la bellezza di cristo delle relazionarsi con lui del camminare insieme con lui abbiamo cercato soltanto di far leva sul senso del dovere di inculcare cose da non fare parlando di cose che solo l'amore vero rende gradevoli e abbiamo così assistito tante volte alla parabola del volontario si inizia con una buona intenzione si tiene fino al massimo impegno ma poi si smette perché perché la cosa non appaga più e non è mossa da un amore vero profondo ma dalla ricerca del proprio benessere eccomi cari aiutare a scoprire quanto sia bello camminare con cristo fare esperienza di lui e fare esperienza di lui camminando nella comunità camminando con gli altri ma noi per primi lo abbiamo scoperto lo stiamo vivendo ma non solo miei cari collegato a ciò c'è un rischio ancora più profondo cercare il signore soltanto per saziare i nostri appetiti infatti nel vangelo perché la folla cerca gesù perché aveva mangiato e si era saziata entriamo qui nel mondo enorme degli appetiti dei desideri che non mi propongo di approfondire in questa sede vi accenno soltanto che sono un po il motore della vita noi tutti siamo mossi da desideri noi tutti abbiamo dei bisogni personali e relazionali niente di nuovo sotto al sole il problema dove sorge quando facciamo dei nostri appetiti dei nostri desideri dei nostri bisogni un assoluto e quindi viviamo per essi cioè viviamo centrati su noi stessi questo può inficiare seriamente il rapporto con dio ma anche con gli altri pensate al rapporto con dio cercare dio soltanto perché appaghi il mio io il papa ha parlato di una tentazione idolatrica è quella che ci spinge a cercare dio a nostro uso e consumo per risolvere i problemi per avere grazie a lui quello che da soli non riusciamo a ottenere insomma per interesse ma in questo modo la fede rimane superficiale e anche mi permetto miracolistica cerchiamo dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di lui quando siamo sazi al centro di questa fede immatura non c'è dio ci sono i nostri bisogni è giusto presentare al cuore di dio le nostre necessità ma il signore che agisce ben oltre le nostre attese desidera vivere con noi anzitutto una relazione d'amore e l'amore vero è disinteressato è gratuito non si ama per ricevere un favore in cambio questo è interesse ecco mi cari a volte non solo abbandoniamo il signore quando otteniamo ciò che vogliamo ma puntiamo i piedi e ci ribelliamo quando proprio non lo otteniamo e pensate alla prima lettura che ci ha proposto una dinamica seria ripetutamente vissuta dal popolo di israele durante il cammino nel deserto come sappiamo ha assistito agli interventi di dio che lo ha liberato dall'egitto dio lo accompagna nel suo cammino nel deserto nutriendolo e istruendolo per mezzo di mosè ma inevitabilmente il popolo incontra anche la fatica e nei momenti difficili che fa brontola si ribella arriva a rimpiangere le cipolle che mangiava in egitto idealizza quello che viveva nella schiavitù la rimpiange pure perché perché aveva fame dimentica il bene vissuto e assolutizza il suo bisogno il suo appetito ecco il problema della fame di quando non è saziato un tuo bisogno di quando ti trovi nel vuoto nella difficoltà che ti porta addirittura a rimpiangere le cose negative infruttuose devastanti che vivevi e a prendertela con dio anziché affidarti a lui e chiedergli la grazia di attraversare quel momento difficile viverlo come tappa di crescita ecco miei cari non assolutizzare se stessi i propri appetiti qui c'è qualcosa di importante non solo il rapporto con dio ma anche per il rapporto con gli altri pensate quanto è brutto quando noi anziché servire tendiamo a servirci degli altri o pensate quanto è brutto sperimentare che una persona ti cerca solo per interesse che una volta ottenuto quel che voleva è sparita o peggio che peggio soprattutto per un cristiano vedere una persona centrata su di sé che vive per sé questo è bruttissimo miei cari è una sorta di fallimento ecco perché il signore ci chiama a cambiare centro a mettere al centro lui e mettere al centro lui significa scoprire la felicità una felicità che consiste nel servire l'altro non nel servirmi dell'altro ecco allora miei cari la prima domanda seria cerco il signore bene ma perché cosa lo cerco ed ecco c'è la seconda domanda che tocchiamo più brevemente abbiamo sentito che gesù ha detto datevi da fare non per il cibo che non dura ma per quello che dura per la vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà questo mette luce un altro punto essenziale cioè io per cosa mi do tanto da fare per ciò che passa o per ciò che vale pensate detto ironicamente la folla cerca gesù perché si era fatta una buona mangiata ed era disposta a farsi chilometri pur di farsene un'altra vedete noi nella vita a volte siamo disposti a fare salti mortali facciamo sacrifici in mani per cose che lasciano il tempo che trovano che servono relativamente che sono fine se stesse qualche volta pure che non servono assolutamente a nulla qui il punto non è imparare a discernere solo il bene dal male ma il bene dal vero bene per non rischiare di vivere una vita in superficie e alla fine della vita trovarci con un pugno di mosche in mano un sacerdote che accompagna i malati terminali di un reparto ospedaliero raccontava che tra i motivi ricorrenti di rammarico alla fine della vita vi era quello di aver dedicato troppo tempo al lavoro e di aver trascurato gli affetti o di aver fatto tanti sacrifici per cose materiali per cui alla fin fine non ne valeva la pena è indicativo o addirittura un ragazzo ormai in fin di vita scrisse una lettera ai genitori che trovarono dopo tempo una lettera bellissima che li riempiva di gratitudine di complimenti ma al suo interno vi era una domanda che era letteralmente una spada di damocle cioè mi avete dato tutto tutto quello che un figlio potrebbe chiedere ma perché non mi avete mai parlato di dio perché ora che sto per morire non so chi vado incontro eccomi cari il rischio fare tante cose correre ma non sapere verso dove stiamo correndo allora chiediamoci nella mia vita perché cosa mi sto dando tanto da fare allora possiamo capire la domanda che pongono a gesù cosa dobbiamo fare per compiere le opere di dio cioè per fare le cose buone giuste vere che vuole dio gesù risponde questa è l'opera di dio che crediate in colui che egli ha mandato c'è tutto parte dalla relazione con lui se tu inizi a frequentare gesù a meditarne la parola a frequentarlo nei sacramenti a seguirlo nella comunità cristiana man mano il tuo cuore viene illuminato e man mano inizia a discernere a scoprire ciò che davvero vale ciò che dio vuole ciò che profuma d'amore e man mano inizia a sperimentare una pienezza interiore una gioia profonda gusti un cibo che niente nessuno ti può dare infatti gesù ha detto io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai cari fratelli e sorelle questa domenica lasciamoci interpellare da queste due domande semplici eppure estremamente importanti uno cerco il signore bene e perché cosa lo cerco due perché cosa mi sto dando tanto da fare per ciò che passa o per ciò che resta e vale che ognuno di noi possa dare la sua risposta ma non solo che il signore possa aiutarci tutti a me per primo a convertire realmente i nostri cuori all'amore per scoprire quanto sia bello stare con lui quanto sia fruttuoso seguirlo quanto dia gioia compiere le sue opere cose che restano che superano il valico della morte e che un giorno porteremo con noi davanti a lui perché perché profumano d'amore quello vero quello che niente nessuno ci può togliere che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti